A voi a Laigueti G-Express. Solamente 8 consiglienti presenti a nullare la riunio. Criatura in perill di vida vuole urgente Laigueti in Roma. Pronti lo cursi per esguardi azoolòficas. Musaltos a Massalviglia prepara l'encontre a Maldellus Cap a Cagliar. Presentare a voi al Maiti Laigueti a Scara Vipicara. Sigla! La mozzarella di bufala. Se è nobile, è meglio. Farinelli Fresco Market. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno a Laigueti G-Express. L'appuntamento quotidiano dell'informazione di Alguerro Channel. E saluti, in questo caso, i amici catalans. Solamente 8 consiglienti presenti a nullare la riunione del Consiglio Comune a convocare per. La riunione volgura dell'opposizione per discutere la situazione politica ha visto solamente la presenza dei consiglienti Camerata, Paesi, Pirisi, Piras, Salaris, Loi, Marino, Polina. Assenso il Sindicato e tutta la maggioranza dell'OPD e del Movimento 5 Stelle. Vole di urgenza per un file con 50 dell'oronatica militare che ha effettuato il trasporto di una creatura di Quattrans, Amparil de Vira. Lo vuole spartiti dall'Alguerro per Roma. Arribare, esastare, accompagnare all'ospital pediatrico il bambino Gesù di Roma. La missione esastare a curare della sala di situazioni di vertice del comando della squadra aerea d'Espressa della richiesta della Prefettura di Sassar. A voi, alla sinchimiglia di Ratalda, la sede della sguaglia dei municipali di Rai Ghe, comincia i primi corsi della sguaglia zooloficas che acaberà Arafide Gianni. Lo corso è organizzato dell'assessore provinciale dell'agriambiente della Regione Saldegna. Sono pubblici ufficiali e compiti della polizia giudiziaria e della protezione civile. Il 25 novembre, noi con Salvini e Alguerro organizziamo un viaggio in pullman per partecipare all'incontro della scuaglia, ma lo delio scapp è previsto per le 4 e miglia di Ratalda. Per informazioni dei orari e di prenotazioni si possono andare a pagina Facebook del movimento contattante la pagina di Giorgia Vaccaro. Ho telefonato a Dario Giacogno al numero 392763 2995. Entra domenica, allo 5 novembre. Di Mekras, alla prassa e alla chiglia di Sant'Agostino della collinetta di Gios e l'insegara ha due spunti della tropa. Ora vediamo la regia e il legatore in mano diretta. E' arrivata l'app di Alguero Channel, la web social tv. Puoi vedere l'Alguero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format Audaci e a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalguerochannel.it Alguero Channel, web social tv. S'accarenta nello svuotozio della Ghe Ascara Piccara. Presentare a voi al MIT, nella sala conferenza dell'UQualtè, la storica manifestazione organizzata dell'Ace di Sassar. Mestalt, è accettare l'Antangarim e cosa abbiamo detto dal sindicato e Mario Bruno a proposito. Curiosità, un'applicazione che spera i miei nostri tradizioni. Sant'Antonio benaito, fermo a trovare un buon marito, che sia un'uomo bello e buo, e se fosse possibile, anche ricco. Per qualsiasi notizia, informazione o pregontasi, vi vorrei contattare la pagina Facebook di Alguero Channel. Ora, la previsione del principio è da me. Siamo arrivati a un altro momento. Siamo arrivati a un altro momento. Siamo arrivati a un altro momento. Grazie a tutti.